Sono Matelda Viola e Viola è il cognome. Ora sono qui, nella suggestiva Villa Grundola, ma forse era a Notre-Dame de Paris a metà del Trecento. Sicuramente a Palazzo Gonzaga, a Mantua, nel febbraio 1607. Questo per dire che da sempre ho nel cuore la musica antica. E soprattutto a lei ho dedicato le mie corde vocali di soprano elastico. Comunque amo e canto ogni buona musica, dal jazz alle opere di bravi autori e cari amici. Da un po' di tempo ho cominciato a tirar fuori la musica che mi nasce nella testa. Musiche di scena, cori, qualche canzone. E ora anche musica pura. Staremo a vedere, anzi, a sentire. Ciao! Musiche di scena, cori, qualche canzone.